Buonasera, sono Laura Antichi. Questa sera parleremo di texture. Texture nei mondi virtuali sono le immagini che si applicano agli oggetti oprim. Particolarmente interessanti sono le immagini seamless texture a dimensioni ridotte e quindi di importazione efficace. Si chiamano seamless perché senza soluzione di continuità che ripetute modularmente in automatico generano uno sfondo uniforme su qualsiasi dimensione. Molti sono i siti, e ve li metterò a margine di questo video, dai quali scaricare queste texture per uso free. Le texture devono essere anche tutte le immagini che si inseriscono su pannelli o slide e che ci servono ad esempio per spiegare qualcosa. Posso salvare ad esempio delle istruzioni come immagini e incastrarle in un prim lavagna. Adesso vediamo come portare le texture, come applicarle. bisogna andare nel menu costruisci, carica, immagine. Vedete che con carica comunque posso importare, caricare immagini, suoni, animazioni, modelli, in blocco, importare link set. A noi interessa ora importare delle immagini, clicco su immagine e la vado a cercare nel mio pc. Ho aperto la cartella sul mio pc dove ho salvate tutte le immagini seamless. Ad esempio questa, prendiamo questa, Abstract, è seamless anche questa, sono tutte seamless. Apri, mi dice, posso cambiare anche il nome, posso dare una descrizione e poi carica. Questa immagine, Abstract, come vedete la ritrovo nell'inventario che si apre in automatico. Ora vediamo come applicare questa texture ad un oggetto. Creo con crea, esempio. Creo un cubo. Ringrandisco il cubo agendo su questi quadratini. Do un nome a questo cubo in generale, lo chiamo Scatola. Scatola. Posso dare anche una descrizione e vado comunque in texture. e in texture. Carico la mia texture. Cliccando sul quadratino texture. Mi da tutte le texture caricate. vedete, vedete che compare Abstract tra tutte quelle che ho salvato, che abbiamo appena caricato. Ok. Ed ecco che la texture è stata applicata all'oggetto. Chiudo. Ora facciamo un altro oggetto. Creiamo in questo caso una sfera. Sfera. Ingrandisco questa sfera sempre agendo sui quadratini. chiamo, chiamo, nomino, la sfera, in generale, sfera. Si può dare anche una descrizione. Si può dare anche una descrizione e vado in texture. E in texture carico una texture tra quelle che ho caricato nel mio inventario. Vediamo se trovo una testura adatta. Vediamo, questa no perché è trasparente. Comunque è sempre meglio usare le, facciamo questa margherite, quella rosa. Vediamo come viene rosa. Ecco. Ok. E ho applicato quindi la texture alla sfera. Do naturalmente la luminosità massima alla sfera. E quindi ho creato un secondo oggetto a cui ho applicato una texture. Creo ora un pannello partendo da un cubo con crea. Ingrandisco il cubo. Poi agendo su sempre i quadratini, quello rosso, vedete, lo appiattisco. Sono sempre in modifica quindi lo ruoto. E voglio su questo pannello, che farò un po' più grande magari, mettere un quiz matematico. Dovrò allora innanzitutto il pannello lo lascio qui. Devo caricarmi all'immagine e quindi una texture. Vado in costruisci. Quindi carica, immagine. E vado adesso sul mio computer a cercare l'immagine del test. Ho individuato la cartella dove ho l'immagine salvata. Si chiama Rompicapo Frutta. Apri. Vedete che mantiene il nome Rompicapo Frutta. Carica. Ora clicco sul mio pannello. Vado in modifica. Sempre do un nome all'oggetto e lo chiamo Rompicapo Frutta. E vado in texture. E in texture carico, sempre andando nell'inventario, Rompicapo Frutta. Ok. Come vedete il quiz. Chiudo adesso, qui dopo lo sposterò. Rompicapo Frutta mi compare sul pannello. Questo potrebbe essere un laboratorio per studenti. Sfidando gli studenti a rispondere a questi Rompicapo quiz di tipo giochi, di tipo matematico. Queste sono quindi delle istruzioni base. Perché è interessante creare nei mondi virtuali delle situazioni didattiche in punti di incontro con gli studenti. Buonasera. 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 Buonasera.